Muy buenos dias model, oggi parliamo di morbo di Crohn e colon irritabile. Molte di voi mi scrivono, mi dicono che hanno questo tipo di problema e oltretutto è curioso vedere come al giorno d'oggi ci siano sempre più persone con problemi intestinali ovviamente perché mangiano cibi non idoni, cibi che non dovrebbero essere consumati e questo letteralmente distrugge l'intestino. Come abbiamo già capito e ho appena detto, hanno a che vedere con l'intestino. L'intestino è parte del sistema digestivo, parte importante perché è ciò che si occupa del vero assorbimento dei nutrienti e se noi abbiamo questo tratto infiammato, molto 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 infiammato, l'assorbimento degli alimenti viene meno, avremo problemi al sistema immunitario. Attenzione che da qui molte volte partono malattie autoimmuni perché? Perché l'intestino è collegato con questo? Perché l'80% del sistema immunitario è nell'intestino. Quindi se noi abbiamo un'alterazione dell'intestino abbiamo anche problemi di, non so, ci ammaliamo spesso, ci prendiamo le infezioni, facciamo fatica a guarire, eccetera eccetera. Inoltre non è solo un problema che la persona tutto quello che mangia finisce al bagno, comunque ha mal di pancia, problemi di pancia. È anche un problema che può terminare con depressione perché sempre nell'intestino si produce la serotonina. La serotonina non ha a che vedere con la pancia perché poi ha a che vedere col cervello ed è letteralmente l'ormone del benessere. Possiamo dire che quando c'è una carenza di serotonina noi abbiamo depressione. Molti psicofarmaci che si utilizzano nella cura della depressione non fanno altro che riutilizzare la serotonina per ristabilire l'umore in una persona. Quando manca questa abbiamo anche problemi di insonnia. Però aggiungerei anche che quando abbiamo una qualsiasi infiammazione, una qualsiasi aggressione nel corpo, il corpo stesso tende ad attivare il sistema nervoso eccitato, ossia quello simpatico che è quello che noi in natura utilizziamo per lottare o fuggire. Quando abbiamo una situazione del genere che è anomala, il corpo rimane con questo sistema nervoso attivo per la maggior parte del tempo. In realtà è un sistema nervoso che dovremo utilizzare per pochi minuti al giorno, solo in condizioni estreme, in condizioni in cui sia necessario che questo sistema sia attivato. Perché ovviamente avere prevalentemente un sistema nervoso eccitato attivo ci farà dormire male, ci farà digerire male e è letteralmente la parte del sistema nervoso che dovrebbe essere meno attiva. Quindi, senza annoiare ulteriormente con tutta questa faccenda, cerchiamo di capire quali sono delle soluzioni che possiamo applicare a costo zero per risolvere questo tipo di problema. Allora, primo tra tutti, ovviamente, ristabilire la flora batterica intestinale. Persone che sono già in questa condizione hanno una flora batterica distrutta. Al giorno d'oggi, tante persone hanno problemi di flora batterica e il consumo dei probiotici, di tutto quello che contiene batteri buoni, è sempre più in aumento. Allora, sarebbe da chiedersi che cosa me la sta distruggendo, però le persone non se lo chiedono e continuano ovviamente a integrare e cercare di sistemare una flora batterica che costantemente viene distrutta. Quindi, in questo caso specifico, sapete che il latte non è bene consumarlo per tanti studi che sono stati fatti e vengono sconsigliati, però, per esempio, nello yogurt kefir si trovano tanti batteri buoni. Per esempio, se vogliamo una fonte di batteri buoni che ovviamente aiutano all'eliminazione di quelli che sono i batteri cattivi oppure potete passare a dell'integrazione pesante che vi possa ristabilire la flora batterica. Secondo punto importante, l'idratazione. Le persone tendenzialmente sono disidratate. Noi in Model Soups abbiamo una formula che è quella di prendere il tuo peso corporeo, ipotizziamo che sia 70, dividerlo per 7 e ti darà esattamente il numero di bicchieri d'acqua che devi bere da 250 ml. Adesso cerchiamo di disegnare un bicchiere, questo è un bicchiere di acqua da 250 ml. In questo caso saranno 7 al giorno se pesiamo 70 kg. Terzo, magnesio. Molto importante all'interno di Model Soups, lo stiamo sviluppando, stiamo sviluppando un magnesio che è determinante per il ripristino di un metabolismo e soprattutto il magnesio ha la cosa importante che calma il sistema nervoso. Quindi in una condizione dove noi abbiamo un sistema nervoso eccitato troppo attivo, col magnesio noi andiamo a tranquillizzarlo. Questo è molto importante. Quindi assumere magnesio non assumerò al mattino, non assumerò prima di allenamento, sennò poi vi sentite rilassati o quasi stanchi o senza energie, ma in realtà è proprio che il magnesio rilassa, quindi va preso verso sera o meglio prima di dormire. Quattro, punto importante, l'alimentazione. Ovviamente evitate di sfondarvi di legumi che creano permeabilità intestinale, quindi in realtà i legumi che vengono tanto consigliati per tutta una serie di motivi ci stanno facendo danno all'intestino, motivo per cui quando uno li mangia alla pancia non sta benissimo, è notorio, quindi non è vero che i legumi fanno bene, anzi sono ciò che causano questa cosa. Infatti, c'è una dieta che si chiama, la potete cercare su Mr. Google, che le sa tutte, tante le sa sbagliate, però, la dieta dei carboidrati specifici. Questa è stata la dieta con maggiore successo perché va proprio ad eliminare, guarda caso, tutti quegli alimenti che noi nella libertà alimentare abbiamo tolto. Sono tutti alimenti raffinati, sono tutti alimenti che causano problemi intestinali. Guarda caso, i cereali vengono tolti, i legumi vengono tolti, e vengono tolti tutti quei carboidrati che aumentano, alimentano il problema. Quindi farei una terapia d'urto partendo con questa dieta dei carboidrati specifici e poi vi renderete conto che in realtà siete tornati a un'alimentazione che è più seconda natura. Quindi se volete fare poi lo step successivo per non tornare indietro e avere un'alimentazione da portare a vita che vi faccia stare bene, passate alla libertà alimentare, che è un'alimentazione secondo natura, libera da grammature, libera da conteggi calorici, libera da conteggio dei macro e questi sono esattamente gli step che io consiglio di fare per risolvere un problema che è tanto fastidioso e fa letteralmente sentir male una persona. Io sono Luca Veronese, esperto in strategie bruciagrassi e metabolismo lento e in questo canale parliamo proprio di questo.